Va bene, torniamo a questa nostra natura pensata come materia prima e anche qui diceva bene Heidegger nel 1927 quando scriveva Essere Tempo che ormai abbiamo cambiato la percezione del mondo naturale perché lo guardiamo solo dal punto di vista economico, già allora nel 1927 e diceva quando uno entra in una foresta vede legname, pensa al legname, vede un fiume e pensa a energia elettrica, guarda il suolo e pensa il sottosuolo, cioè questo sguardo della natura esclusivamente come materia prima ma dice arriverà il tempo e forse siamo già arrivati che la materia prima più importante di Wittichste Rostoff sarà il corpo umano, materia prima. E allora in un contesto di questo genere come si fa? Come si fa una volta che lo stesso nostro sguardo percettivo non riesce a catturare se non ciò che è utile, ciò che è sfruttabile, ciò che è impiegabile? Per cui la terra cessa di essere la nostra dimora ma diventa il nostro sfruttamento, anzi Heidegger dice siamo passati dall'uso della terra alla sua usura. Abbiamo un'etica che possa salvaguardare la tecnica? No. Kant aveva formulato un'etica molto nobile che noi riassumiamo in una sua frase, l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo, è un'etica che non si è mai realizzata. Kant lo sapeva benissimo ma non è importante che le etiche si realizzano, è importante che siano delle figure regolative, cioè dei modelli verso cui tendere. Se da noi viene un immigrato il fatto che sia uomo non è che lo fa considerare un fine, diventa un fine alla sua condizione che si traduca in profitto, ma la condizione dell'immigrato non è diversa da noi, noi acquistiamo rilevanza sociale solo se produciamo, per cui è la produzione che giustifica l'esistenza, non il fatto di essere uomo. L'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo, anche questo è molto cristiano, anche se Kant non se ne era reso conto, perché voleva costruire un'etica che prescindesse dalle religioni, perché siccome l'etica deve valere per tutti, deve fondarsi sulla sola ragione. Ma chi ha detto che l'uomo è il vertice del creato? La tradizione giudaico-cristiana. Quella greca diceva, uomo meschino, non pensare che questo universo sia stato fatto per te. Ecco. Allora, con un'etica che prevede l'uomo come fine, vuol dire che tutto il resto è un mezzo. E questo poteva andare bene all'epoca di Kant, quando l'umanità aveva pochi uomini, pochi abitanti, e la Terra era grande rispetto al numero della popolazione. Ma oggi, nell'età della tecnica, l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o è a sua volta un fine da salvaguardare? E la flora, e la fauna, e l'atmosfera, e la biosfera, e il buco dell'ozono, sono tutti i mezzi? Abbiamo un'etica che si faccia carico degli enti di natura? No, non l'abbiamo. Perché le etiche che abbiamo formulato fino adesso sono etiche che si sono fatti carico solo della riduzione dei conflitti tra gli uomini, ma non si sono fatto carico degli enti di natura. E le etiche, per funzionare, non è sufficiente che siano enunciate. Per funzionare è necessario che diventino psiche, che siano interiorizzate psicologicamente. Se io stupro una ragazza, sono immediatamente percepito come colpevole, peccatore, indecente. Ma se inquino, boh, vuol dire che le colpe nei confronti della natura non sono diventate psiche, non sono state interiorizzate e in quanto non interiorizzate anche le etiche, che si dovessero formulare a salvaguardia del mondo naturale, non sono efficaci. Abbiamo vissuto, a partire da 25 anni fa, il crollo dell'Unione Sovietica. Questo ha determinato la globalizzazione del nostro sistema. la globalizzazione del nostro sistema. E non so, sotto l'entusiasmo della globalizzazione, il nostro sistema non ha già visto il suo suicidio. Nel senso che il nostro sistema reggeva la sola condizione che il resto del mondo non fosse ai nostri livelli. E fino a qui ci eravamo riusciti attraverso il colonialismo territoriale e ancora oggi un po' ci riusciamo attraverso il colonialismo economico, ma ce la facciamo noi a diffondere il nostro sistema in tutto l'universo. Ho ragione Charles Bukowski quando dice che il capitalismo ha soppresso il comunismo. Bene, dice lui, ora il capitalismo divora se stesso. E qui abbiamo sentito anche la difficoltà di che cosa significa globalizzazione in queste giornate. Noi con la globalizzazione abbiamo esportato il mercato, abbiamo cercato di esportare la democrazia, esportare quello che ancora non abbiamo, perché la democrazia non so quando c'è mai stata in Occidente. Nel senso che l'impero romano non era democratico, il sacro romano impero ancora meno, le signorie principiate lasciamo perdere. L'illuminismo ci ha provato e non ci è riuscito, il positivismo neppure. Nel Novecento abbiamo avuto fascismi e comunismi, non so quando c'è stata la democrazia, perché la democrazia non significa andare a votare, questo è un modo di eleggere i capi. La democrazia vuol dire creare le condizioni per cui tutti possano avere un accesso a tutte le possibilità che una società offre. Questa è la democrazia, non il voto. Il voto in sé è abbastanza inessenziale. La democrazia, i diritti umani, però se la democrazia e i diritti umani confliggono col mercato, allora si dimentica la democrazia, si dimenticano i diritti umani e funziona solo il mercato. Funziona solo il mercato. Ci si può rivoltare di fronte a questa situazione? Ogni tanto io chiedo ai giovani perché non fate la rivoluzione? glielo dico provocatoriamente. Nel 68 quella piccola rivoluzione che è stata nel 68 era fatta da persone borghesi che avevano studiato, che stavano abbastanza bene e hanno fatto anche una bella traccia di disordine nella storia e anche di rinnovamento, disordinato, fino addirittura alle frange estreme, alle bregate rosse. E però stavano molto meglio dei giovani d'oggi. Provate a pensare che se nel 68 si fosse offerto un contratto cococò, pro cococò o a progetto un giovane, mi avrebbero fatto saltare la fabbrica o l'ufficio. Perché siete così rassegnati? Chiedevo loro. E il fai, cosa devo fare? O così o niente. A me lavorare anche tre mesi mi consente di fare qualcosa. C'è questa struttura della rassegnazione dei giovani. E anche questa la si capisce benissimo. Perché sempre Hegel ci aveva detto che la rivoluzione è possibile alla sola condizione che esiste il conflitto tra due volontà. Ma dice Hegel, che non era marxista perché era un grande conservatore di destra, dice Hegel la volontà del servo contro la volontà del signore. Simbolicamente negli anni 60 la classe operaia è Agnelli, volontà del servo, volontà del signore. Oggi però sia il servo che il signore, sia il datore di lavoro che l'operaio si trovano nella stessa parte. E hanno come controparte il mercato. E che cos'è il mercato? Il mercato non è una volontà. Il mercato sono due asse cartesiane, no? Su una la domanda, sull'altra l'offerta, il punto di incrocio è il prezzo. E come fai a prendertela col mercato? Chi è il mercato? Che è la controparte sia del datore di lavoro sia dell'operaio, anche questo è un grosso cambiamento. Il mercato è nessuno. È vero che Omero ci ha insegnato che nessuno è sempre il nome di qualcuno. Ma questo qualcuno non si vede. E allora resta quel nessuno con cui prendertela. Chiudiamo con una frase molto importante, profetica di Heidegger, il quale di fronte a questa situazione ha scritto nel 1952 Inquietante? Non è che il mondo si risolve in un unico apparato economico-tecnico. Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa fare solo di conto. Denken als rechnen. Un pensiero che sa solo calcolare. E non avendo un pensiero alternativo al pensiero come calcolo, non c'è nessuna possibilità di riscattarci da questa situazione profondamente nichilistica, profondamente antitetica al mondo della vita e non abbiamo nessun'altra possibilità. Perché anche i pensieri che apparentemente non sono calcolanti, come può essere l'arte, la musica, eccetera, in realtà l'arte quando un quadro diventa arte, quando entra nel mercato, prima non ha valore. Il valore glielo conferisce il mercato, non l'arte. L'arte non è più in grado di conferirsi il valore. E allora questa è la situazione. Inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico apparato economico-tecnico. Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che fa di conto. E allora questa è la nostra paralisi. Mi ricordo qualche mese fa, sono andato, io insegno, vivo a Milano, ma insegno a Venezia. Quindi tutte le settimane vado a Venezia. Una volta è venuta su una ragazza con un'arpa, che è uno strumento musicale abbastanza ingombrante, ma quindi ha creato la curiosità un po' di tutto lo scompartimento. Si è sistemata e a un certo punto il signore è molto distinto, è anche molto garbato. Inizia una conversazione con lei, le chiede che cos'è questo strumento, dove si suona, quando si suona, se è difficile impararlo, in che contesti viene utilizzato, che soddisfazione le dà. La ragazza era molto interessata che qualcuno si occupasse di lei e della sua arte. E dopo questa bella conversazione, che sarà durata una mezz'oretta, il signore è distinto e gli dice, ma adesso signorina mi dica, con questo strumento, dov'è il business? Ecco qui il pensiero calcolante, il pensiero che sa fare solo di conto. E allora se questa è l'unica modalità con cui noi pensiamo, e proviamo ad inoltrarci del futuro facendo ancora più algoritmo, facendo ancora più conti, e vediamo se riusciamo a far accadere quello che ieri è gubitosi, incidentalmente, non so quanto consapevolmente, parlando della popolazione che diventava sempre più urbana, e sempre meno rurale, e sempre meno distribuita sul territorio, parlando della digitalizzazione, gli è uscita una frase, chissà se saremo più felici. E qui vi lascio con questa domanda, io penso di no. I nostri nonni forse erano più poveri, ma forse non è mica detto che fossero più infelici. Fermiamoci qua. Applausi